Questa è una nuova puntata di AI Essentials, una serie di video che vuol farti capire, veramente mettere ordine nel mondo dell'intelligenza artificiale, degli strumenti che ti possono servire oppure che potresti fare a meno di utilizzare, ma soprattutto dei modi con i quali avvicinarsi all'intelligenza artificiale. Io sono Francesco Facchini e adesso partiamo. Oggi ad AI Essentials ti parlo di prompt. Sai di cosa si tratta? Si tratta della parola da cui tutto parte se vuoi metterti in relazione e iniziare a utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale. Nel contesto dell'AI il termine prompt si riferisce a una serie di istruzioni o di testo di input fornito a un sistema di intelligenza artificiale per avviare una conversazione o per richiedere una risposta specifica. Il prompt può essere una frase, una domanda, una descrizione del problema che si desidera risolvere. Essenzialmente il prompt definisce il contesto e l'obiettivo della comunicazione tra l'utente e il sistema di intelligenza artificiale. Insomma il prompt è la tua richiesta, lo strumento di AI che deve contenere gli elementi per definire bene la risposta che vuoi ottenere. Deve essere chiara ma anche diciamo tua e adesso ti spiego il perché. Insomma il prompt è quel comando che devi dare alla piattaforma di intelligenza artificiale per ricevere in cambio esattamente quello che desideri ricevere e non è una scienza facile da imparare. La cosa che devi evitare però è quella di omologarti a prompt precostituiti. In questo momento chiunque, qualunque scemo stia parlando di intelligenza artificiale ti accompagna i suoi ragionamenti con una serie di prompt, di comandi precostituiti dicendoti che sono il paese del bengodi, che puoi fare delle cose meravigliose anche senza metterci il cervello. E' una cosa che devi assolutamente evitare di fare per un motivo molto semplice perché se tu userai prompt preconfezionati, comandi prestabiliti per utilizzare queste piattaforme di intelligenza artificiale è come se tu facessi, creassi delle cose col cervello e le parole di qualcun altro. Ci siamo capiti? Per quanto riguarda i prompt va detto che c'è una materia che insegna come costruirli esattamente che si chiama ingegneria dei prompt e la questione non è una bazzecola. Anzi, ci sono addirittura dei corsi di alta formazione universitaria in facoltà americane come Berkeley che si stanno instaurando proprio in questi mesi. Mesi nei quali l'informazione sull'intelligenza artificiale è veramente ad un alto tasso di confusione. Insomma, seguire gli account degli ultimi social media fighi che parlano di intelligenza artificiale sembra che costruire un prompt, fare un prompt o usare l'intelligenza artificiale con dei prompt precostituiti sia una bazzecola che ti fa creare cose fighissime senza neanche metterci il cervello. Ecco, è una cosa che devi evitare. Gli strumenti di intelligenza artificiale hanno bisogno di prompt, di comandi, ma hanno bisogno che a dare quei comandi sia tu, perché così rimarrà l'unicità delle creazioni, magari facilitate da questi meravigliosi strumenti di intelligenza artificiale, ma governate sempre dalle tue parole e dalla tua testa. Insomma, ricordati, se usi un prompt di qualcun altro è come se usassi per scrivere una cosa che serve a te, il cervello di qualcun altro. Io sono Francesco Facchini, questo è AI Essential e ci vediamo alla prossima.